Dovrebbe essere agibile entro i primi di settembre lo stadio di Acquasanta, il nuovo campo sportivo che attende da anni ormai di essere messo a norma e sistemato come, secondo il nuovo stadio della città, assegnato all'Aquila Calcio. A pochi giorni dall'incontro per discutere della convenzione per il futuro affidamento alla società Rosso Blue del nuovo stadio, avvenuto lunedì scorso in comune tra il presidente dell'Aquila Calcio Corrado Chiodi, Il direttore generale Fabio Aureli, con l'assessore allo sport Emanuele Aiorio e responsabili comunali degli impianti sportivi, sembra finalmente veder la luce e la questione. Un incontro molto positivo, ha detto poi la società, nel quale sono state chiarite anche alcune criticità. Dunque ancora circa un mese e il nuovo stadio comunale sarà omologato e pronto per farci giocare l'Aquila Calcio, dotato anche di un moderno sistema di videosorveglianza e con i seggiolini rossi alternati sugli spalti dell'impianto con altri blu, per riportare i colori sociali, mentre altri bianchi hanno composto la scritta L'Aquila 1927. Del resto, l'allenatore dell'Aquila Calcio Massimo Morgia è stato chiaro, o lo stadio o me ne vado. L'assessore Capri nei giorni scorsi ha fatto anche un sopralluogo allo stadio, abbiamo testato le telecamere, sono funzionanti, ha detto allo stampa. Anche per il problema dell'elettricità la cosa verrà risolta immediatamente, prima di ferragosto. Capri si riferisce naturalmente al nodo che si è creato intorno all'allaccio elettrico che rifornisce Acqua Santa al vicino campo federale, la cui cabina è stata spostata all'interno della palazzina della FIGC e per cui l'Enel ha già predisposto gli allacci. Mancano dei passaggi burocratici, ma l'assessore è certo di risolverli presto. Fatto l'allaccio, si passerà a fare la verifica degli impianti, come l'antincendio e più in generale l'elettricità anche dal circuito interno. Intanto dal comune hanno chiesto all'Aquila Calcio di non allenarsi già all'11 domani per permettere alcuni collaidi. Altra questione è il parcheggio dietro la curva ospiti. La Questura lo vuole appunto come parcheggio, ma Capri frena. A questo punto è probabile che per ora non ci vada un parcheggio, fa sapere. Poi si vedrà a seconda della necessità. Quello che bisogna fare sicuramente è recintarlo. Capri ha confermato anche che gli spogliatoi sono a posto e che un'altra cosa da fare a breve sarà l'installazione dei pannelli sopra la curva ospiti per migliorare l'effetto incompiuta che danno gli altri finestroni. Insomma, a breve lo stadio dovrebbe avere la luce e questo è l'auspicio di tutta la città sportiva, che attende anche che la campagna abbonamenti sia fatta proprio al nuovo stadio.